Dopo tre anni di stop, causa pandemia, riparte finalmente Scuoli d'Arietà, la manifestazione del coro arcobaleno che porta in scena le fiabe più belle e sostiene gli istituti scolastici nell'acquisto di materiale didattico. L'appuntamento è per lunedì 17 aprile al Palatagliate per il musico l'ispirato a Pinocchio, nel 140esimo anniversario dell'uscita del libro di Collodi. Per gli organizzatori del coro arcobaleno non è una ripartenza facile. Dal 2019, anno dell'ultima edizione della manifestazione, che vide la messa in scena di Peter Pan, sono cambiate tante cose. Anche noi abbiamo ricominciato passo passino e siamo arrivati praticamente finalmente a contattare le scuole. Alcune insegnanti sono cambiate, alcune appunto si sono trasferite, alcune sono andate in pensione. Ecco, volevamo appunto riallacciare un pochino i rapporti con le scuole in modo che tutte le scuole sapessero di che cosa si tratta. Insomma, quasi un anno zero per scuoli d'arietà, cheppure giunge quest'anno alla sua 24esima edizione. Il coro arcobaleno però ci tiene a far riscoprire la propria missione. Vogliamo farci conoscere perché diamo degli input molto importanti per quello che è l'educazione, per quello che è la morale, diciamo, di tutte queste fiave che noi prendiamo in carico, trasformiamo in canzoni e le rendiamo accessibili a qualsiasi tipo di pubblico, dai piccolissimi di tre anni ai centenari. Come di consueto sono previsti due spettacoli, il primo la mattina riservato alle scuole, il secondo nel pomeriggio aperto a tutta la cittadinanza.